ciao a tutti ragazzi bentornati qui è lollo siamo pronti con una nuova battaglia una battaglia arcade una battaglia aerea con il nostro war thunder splendido simulatore di volo action ci divertiremo oggi con il lolos club perché non è solo il lollo a combattere ma insieme a lui abbiamo due grandi personaggi del plotone del lolos club ovvero il nostro amico joseph ciao ciao joseph e il grande la new entry animal power grande animal ragazzi questi ragazzi sono fortissimi e adesso facciamo una mega battagliona la classica nostra battaglia aerea arcade io direi di iniziare che dite ragazzi pronti vai pronti andiamo tutti sul pronto partenza vai ragazzi siamo tornati cattura e mantiene il controllo dell'aeroporto dopo spiego questa modalità perché non l'avete mai fatta voi io non l'ho mai fatta che modalità e spiega prima che di partire spiega c'è il punto a che sarebbe un aeroporto per conquistare l'aeroporto tu devi atterrare ma quindi devo atterrare aia questa è tosta va bene andiamo allora all'attacco proviamoci ragazzi oppure puoi difendere i cararmati che se non mi sbaglio lentamente si avvicinano loro al punto a ah ok allora io intanto vedo i nostri vedo e io ti vi vedo eh ragazzi c'è joseph là davanti giuseppe animal power io mi sa che infatti mi mi sto dileguando sulla destra no rega si e mi vado a beccare uno che sta da solo tento e poi vado a distruggere prima di atterrare vado a distruggere i cararmati vediamo un po' se questo partita dell'oro sto tornando indietro io eh c'è qualcuno che mi stava eccolo questo questo ce lo facciamo insieme ci siete ragazzi ah peccato l'avevo quasi colpito no io voglio beccare loro più che altro no ma chi è che mi ha beccato no una morte stupidissima e ha preso sì l'iniziativa non c'avevo nessuno dietro ma è possibile che sia un fuoco amico che mi ha bruciato eh ragazzi no mannaggia ne stavo distruggendo uno io sono precipitato eh anch'io sono mezzo morto ma non rientro non rientro in gioco ecco sono rientrato adesso dai siamo ricco oggi stiamo giocando così così aspetta io do a squadra attacca il punto come al solito vai che l'ho colpito questo è mio questo è mio vai che forse ho distrutto un aereo nemico eh grande dovrebbe essere distrutto ormai perché stava là che assisto nemico eliminato vai ragazzi uno è andato io mi sposto un po' sulla sinistra però eh non sto sopra di distrutto lavoro di squadra bravi no mi sono andati addosso c'ho sempre un calo di fps ragazzi non so perché ma non capisco il ping è buono il ping si è buono lo vedo pure io è strano è molto strano sto calo di solo su war thunder poi solo su war thunder vabbè sui server comunque pure eh a volte si ma che questo me lo sono ah ho colpito un altro uh chi è no no guardate che ho fatto mamma mia il lollo che fa le agrobazie no bastardo mi hanno bloccato agrobazie ma mi hanno fottuto mi hanno fottuto mannaggia ah ma ci stanno distruggendo oggi eh eh si dobbiamo qualcuno di noi deve attegare per forza sennò perdiamo qua eh proviamo ad atterrare ragazzi vado con un fiori di riserva fiori mk2 visto che non è molto potente atterro provo il pilota è ucciso guarda che è tosto ragazzi oggi sono bravi questi ma si può anche vincere distruggendo i cararmati qua stanno anche quelli si si lo so lo so l'avevo no non me ne ho accorto l'avevo letto c'era scritto distrugge anche la parte a terra la parte nemica che sta a terra allora allora io direi andiamo ad aiutare un nostro amico andiamo sull'arriken di Bokniki lo vedete Bokniki no bastardi bastardi andiamo su questo attacca il punto B iniziamo iniziamo attacca il punto B attacca il punto C colpito piatelo piatelo acchiappatelo vai assiste nemico ragazzi abbiamo fatto fare un altro di loro io provo ad atterrare ragazzi se riesco vai vai ci sono ti copro ti copro sempre ma per atterrare ovviamente devo solo diminuire la velocità no no ma sono già bassi i miei ho il Fury K2 capito è la riserva missione fallita no stavo atterrando vabbè ragazzuoli però dipende dall'aeroplano dall'aeroplano il mio era un Fury K2 che è di riserva per cui eh vabbè intanto ragazzi io vi dico quello che sta facendo ho ricercato tutte le modifiche del mio livello voi non le potete vedere però per esempio adesso riparazioni delle ali facciamo la ricerca ok come è andata la classifica la classifica adesso ve lo dico com'è andata beh non è male abbiamo preso pure una io ho preso una medaglia statistiche giocatore eh io sto a metà bravo Joseph bravo Joseph sei terzo Animal Power 7 ultimo e loro è stato il peggiore in questa partita so a metà classifica tipo nono vabbè dai ne facciamo un'altra al volo che dite ragazzi sì dai facciamo un'altra siete pronti? va andiamo ok distruggere le unità terrestri questa è la classica io inizio sempre con il Gladiator MK2 di TAC che è uno dei più forti che ho non so voi oggi piateli piateli mi raccomando speriamo allora ok siamo sulle montagne secondo me quello io purtroppo mi ha mi ha sponato abbastanza avanti stavolta adesso provo a bersagliare un po' le le unità terrestri ragazzi capito? ci provo almeno guarda che bombardamento no questo non me ne frega niente me ne voglio andare da questo vediamo un po' se riesco se non mi rompono le scatole forse qua ce la faccio vai unità unità distrutta vai l'ho iniziato con due unità di superficie distrutte ho preso subito io l'iniziativa sperando che non nessuno dietro mi ha preso il bombardiere la prima volta che lo uso allora il bombardiere devi stare molto alto e bombardare lo sai come funziona? si 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 devo il tasto per osservare insomma dal binoculo intanto unità di superficie distrutta un'altra ah ok uh io ho preso l'iniziativa ma stavo facendo un botto contro la scogliera ma io sto andando abbastanza bene in questa partita uh attento lollo mamma mia come state messi ragazzi? io sto andando solo sulle superfici nemiche voi magari difendete io ti sto raggiungendo sto hai visto dove sto io? si stai abbastanza lontano eh si aspettate che devo devo far volare l'aereo che stava tieni uno che si sta avvicinando in alto a destra ragazzi ma bellissimo no chi è? uh mi stanno fregando l'ho fregato l'ho fregato adesso ci vado io contro questo se riesco bastardo mi ha colpito ora ti colpisco io vai l'ho distrutto ragazzi distrutto l'aereo vai bella partita questa la seconda veramente figa mi sto divertendo adesso è certo che ho preso l'iniziativa mi sto massacrando ah peccato si mi sono schiantato peccato vabbè succede ma perché non rientro? perché ah ecco ma rientro ci ho messo tantissimo a rientrare comunque abbiamo avevamo preso l'iniziativa ma ci stanno recuperando eh facciamo i seri su animal ci sei? si sei concentrato? abbastanza eh ti vedo piateli mi raccomando quello è il motto nostro piateli è il motto di chi? sono morto vabbè fa niente tanto qui si muore e si rivive basta che poi ieri aspettate che qui vedo un sacco di aerei loro bastardi no chi è? si è distrutto chi è sto bastardo? c'avevo uno dietro oh bravo mi ha fregato questo mi ha fregato mi sono salvato eh ho aperto ok ritorniamo con il fury va fury mk2 ma dietro hai un sacco di gente giosef io ti vedo io sto dietro a te eh si io sto ma loro sono abbastanza forti lo sapete ma noi siamo più forti che adesso mi fotto questo mi fotto bastardo vieni qua vieni qua vai 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 adesso ci penso io a questo no è sotto attacco la base ragazzi avete sentito si si la base è sotto attacco eh ma io adesso sto tornando indietro infatti sto andando tentando di andare a prendere un tizio che si chiama Helmets l'avevo colpito ma poi purtroppo ho finito il mitragliatore ho finito i proiettili dai 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 tanto siamo tre contro uno questo lo facciamo fuori vieni dalla parte mia vieni qua stronzo Helmets sei mio Helmets è morto Helmets a posto è morto Helmets l'ha fatto fuori un'altra un altro nostro combattente ah ma lo sapete perché era sotto attacco era un bombardiere eh si sta eccolo la si chiama Woodpeaker F4U eh se ci distruggono la base abbiamo perso eh lo so ma noi stiamo aspetta quanta vita vabbè ha ha perso un quarto di vita soltanto no e ci conviene distruggere l'unità di terra e infatti io sto andando eh sto andando verso l'unità di terra ma purtroppo è lento anche io c'ho un aereo lento perché è quello di riserva non so voi il mio aereo va a 670 km ma che è veramente si si ma il mio sta a 300 è visto l'altra volta nello scorso video quando ci sono passato da l'anno si si infatti vabbè volevo fa niente volevo far fuori uno ma due unità di terra quante? due due ma dove stanno? allora una l'ho trovata vabbè io intanto faccio oh che m'ha fatto? ha aggredito aereo bruciato mi ha bruciato l'aereo fa niente tanto dovremmo aver vinto quasi si abbiamo vinto abbiamo vinto dai grandi grandissimi allora proprio per perdere che ci mancava solo un'unità allora vediamo un po' io ho fatto un aereo distrutto 4 superfici di unità distrutte di terra colpi critici 1 13 ok statistiche giocatori e insomma migliore Joseph anche io così così abbiamo avuto delle persone sono state fortissime guardate quell'antimass 12 12 bersagli terrestri distrutti complimenti bravo bravo va bene ragazzi ok chiudiamo questo che dire ci siamo divertiti pure oggi abbiamo fatto rivedere un'altra partitella War Thunder ovviamente siete invitati anche altre persone che vuole giocare col nostro plotone è benvenuto almeno due persone che dite in 5 penso sia perfetto il plotone che dite e dai buone feste a tutti perché questo è il periodo natalizio fra Natale Capodanno quello che è dopo Capodanno adesso insomma vediamo pure quando mettere questo video sul nostro canale come vedete anche War Thunder festeggia il Natale con la neve con i pacchi regalo e come ho già detto nel video mi raccomando mangiate divertitevi e piateli mi raccomando piateli tutti i doni però stavolta piatene tanti e comprate un bel po' di cosette mi raccomando mangiate senza però senza ingrassare però mi raccomando va bene dai un saluto ai miei amici al mio plotone in ordine Joseph ciao tanti auguri e ciao anche ad Animal Power grandissimo ciao ciao Animal grazie mille ci siamo divertiti pure in questa partita ci vediamo alla prossima ragazzi like e condivisione se vi è piaciuto alla prossima ciao 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 ciao